Buonasera, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV, cominciamo subito con la crona che è incidente questa mattina attorno alle 7.30 sulla via Retina Monte San Sivino, qui sono intervenuti i mezzi del 118 dell'Aside Toscana Sudeste per soccorrere un ragazzo di 25 anni. Il giovane è stato trasportato all'ospedale senese delle scotte in codice giallo con l'ambulanza della misericordia di Monte San Sivino e supposto anche i vigili del fuoco di Arezzo e i carabinieri, sempre di Monte San Sivino. Andiamo a parlare di bollette, numerosi casi di maxibollette del gas per riscaldamento domestico, le difficoltà di comunicazione con il gestore, le code allo sportello estra di via Garibaldi per chiedere spiegazioni, una serie di questioni che stanno toccando in questi giorni le famiglie a retine. Sul caso bollette da oltre 1000 euro è intervenuta anche Feder Consumatori annunciando un esposto alle autorità garanti e adesso estra cerca di chiarire attraverso una nota. Greta Sentimelli. Un esposto ed una richiesta di incontro a destra. Feder Consumatori Arezzo è sul piede di guerra dopo il caso delle maxibollette del gas arrivate a numerosi cittadini. Molti ci stanno contattando, conferma Feder Consumatori, per segnalare fatture del gas del gestore estra con importi estremamente elevati a seguito di variazioni tariffarie nel mercato libero. Si tratta di pensionati, lavoratori dipendenti e attività economiche. Questa decisione di aumentare i costi del gas non trova alcuna giustificazione, conferma Feder Consumatori, nella difficoltà di approvvigionamento o nelle incertezze del mercato internazionale, tanto che la stessa autorità garante, grazie alle nuove modalità di approvvigionamento e di calcolo del costo della materia prima, prevede nel mercato di maggiore tutela una diminuzione del 34%. Intanto Estra Energia della provincia di Arezzo ha inviato una nota con cui prova a spiegare dove potrebbe essere il problema. Aumenti non di pesi da noi, scrive, le nostre società di vendita non possono fare altro che applicare in bolletta i costi della materia prima così come scaturiti dal mercato internazionale. La voce più importante in bolletta è quella proprio della materia prima che oggi pesa sul costo totale per circa il 60%, sì ai pagamenti a rate. Il futuro del commercio degli ambulanti se ne è parlato ieri in un incontro organizzato da Confesercenti Arezzo. Greta Settimelli. Dopo due anni di Covid è comunque una congiuntura economica complicata. Come sta il settore e quali sono i suoi bisogni? Il settore attraversa una fase delicata. Chi in questo momento si trova a frequentare i mercati ma anche le fiere tradizionali del nostro territorio vede una situazione di stanca sia dal punto di vista delle presenti, a volte troviamo ancora numerosi posteggi e concessioni indipendentemente dalla stagionalità purtroppo desolatamente vuoti, ma anche dal punto di vista dei visitatori. Il Covid non solo sta cambiando le abitudini agli acquisti, anche quella che era la clientela che normalmente frequentava i nostri mercati. Alla crisi dei consumi si accompagna anche la sensazione di una sempre minore qualità della merceologia offerta. Una difficoltà, un condizionamento esterno forte in quella che può essere l'attrattività e la valorizzazione dei mercati e siamo consapevoli e certi che questi spunti debbano essere tradotti sia in norme a livello comunale, a norme a livello regionale e nazionale. Gli attori presenti devo dire che in alcuni casi hanno condiviso quelle che sono le nostre scelte, le nostre strategie. Quello che diamo sostanzialmente è una continua e maggiore attenzione a questi problemi e tempi della politica più rapidi. Assistiamo purtroppo troppe volte a tempistiche che non sono adeguate a quelle del mondo dell'economia, al mondo delle imprese e da questo punto di vista siamo consapevoli che se vanno ulteriormente in crisi i mercati rappresentano un ulteriore impoverimento per i nostri centri urbani e i nostri centri storici. La cosa principale secondo me e il problema principale sono farle rispettare. Io credo che i comuni si dovrebbero fare carico di queste cose, magari noi mettendoci un attimino più a discutere con loro perché non è possibile certe norme basilari che non vengano nemmeno applicate. Sembra quasi che a volte che l'amministrazione si ignorino completamente, cioè che dicono vabbè il mercato c'è e così non ce ne frega niente. Ma norme basilari come possono essere il DURC, il rispetto dei segni dei mercati, il rispetto importante di chi è dietro i banchi, cioè siamo arrivati a un punto che è veramente diventato il mercato è proprio degradante. Maggiori controlli e tutela di chi lavora secondo le regole? Sì, secondo me sì, maggiori controlli, cosa che noi abbiamo chiesto spesso ma sembra quasi che sia una cosa, cioè sembra che faccia anche comoda a volte l'amministrazione lasciare tutto così. Parliamo di sanità, il centro trasfusionale dell'ospedale San Donato di Arezzo apre alle porte ai donatori anche la domenica, 5 gli appuntamenti previsti dal 12 febbraio. La novità riguarderà oltre al 12 febbraio anche la domenica 16 di aprile, l'11 giugno, il 10 settembre, il 5 novembre e il 3 dicembre con orario dalle 8 alle 11. L'ampliamento del servizio è stato stabilito di concerto con le associazioni dei donatori, commenta il dottor Pietro Pantone. Questo per poter venire incontro alle esigenze dei lavoratori che non sempre hanno la possibilità di potersi recare e donare nei giorni infrasettimanali. Le donazioni del sangue come numero sono in linea con gli anni precedenti ma si registra una preoccupante diminuzione di donazioni di plasma a livello nazionale. Per questo è necessario mettere in campo tutte le possibilità per intercettare la disponibilità dei donatori. Castiglion Fibocchi è divenuta città dell'olio. La cerimonia ufficiale è avvenuta in settimana. Chiara Sadotti Oggi riceviamo ufficialmente la bandiera della città dell'olio. Castiglion Fibocchi diventerà città dell'olio. È stata consegnata la bandiera dell'associazione al comune che entra così a far parte della grande rete che raccoglie 437 enti pubblici impegnati nella promozione dell'olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano. Noi come rete siamo ormai 450 città in tutta Italia. Crediamo fortemente che l'olivicoltura e la cultura olivicola possa diventare un'opportunità per la rinascita di territori e delle aree interne attraverso forme legate al turismo, dell'olio che è una nuova forma di scoperta dei territori attraverso la chiave della civiltà olivicola. Ma anche per recuperare un paesaggio e un'olivicoltura che sta per essere abbandonata a favore di altre tipologie di culture agricole che non hanno il valore importante quale è l'olivicoltura italiana. Quindi crediamo che tutto questo impegno che noi stiamo mettendo e grazie all'adesione anche di realtà come Castiglione Fibocchi debba servire a questo. Noi bisogna riportare, dar forza a questa identità culturale per permettere poi di una crescita sostenibile dei territori in cui noi viviamo. Castiglione Fibocchi è il 56esimo comune della Toscana ad aderire alla rete. È importante questo per la promozione del nostro territorio, delle nostre tante importanti aziende agricole che sono all'interno del territorio di Castiglione Fibocchi e questo è lo scopo principalmente anche dell'Associazione Nazionale dell'Olio nata nel 1994, la tutela, la promozione della cultura dell'olio e anche dei territori che ospitano appunto l'agricoltura e il mantenimento dell'olivo. Uno dei punti di forza su cui programmare anche politiche legate al turismo, legate all'agricoltura e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. L'olio extravergine di oliva è il fondamento della cultura e della gastronomia italiana e in particolare toscana. Gli olivi furono collocati in alcune zone geografiche, compresa la zona di Castiglione Fibocchi e tutta la via della Sette Ponti, per decisione del Granduca Pietro Leopoldo, perché in questi luoghi l'olivo veniva bene e l'olio prodotto era eccellente. Così nei secoli, così è oggi. E come ogni anno è arrivata anche la data dell'esposizione pubblica dei cartelloni dei punteggi delle giostre del Saracino, in questo caso dell'edizione 2022, la cerimonia della premiazione dei giostratori avvenuta questa mattina nel chiostro del Palazzo Comunale di Arezzo. Sono state svelate anche le dediche delle lance dell'edizione 2023 a Luca Signorelli e al centenario dell'Arezzo Calcio. C'era per noi Greta Settimelli. È stato il chiostro del Palazzo Comunale ad Arezzo ad ospitare la ventottesima edizione della cerimonia di premiazione dei giostratori, l'evento che celebra i cavalieri protagonisti delle edizioni 2022 della giostra del Saracino e delle prove generali. Nel corso della cerimonia sono state annunciate le intitolazioni delle prove generali 2023 e delle dediche delle lance d'oro nelle due edizioni di quest'anno. Poi, come al solito, sono stati mostrati i tabelloni con tutti i punteggi delle giostre 2022. Questa era la ripartenza per questa manifestazione perché lo scorso anno l'avevamo fatta mai in formato ridotto senza utilizzare costumi perché eravamo ancora nella pandemia e quindi si riaccende davvero la luce e quindi ci aspetta un 2023 a trazione integrale, direbbe qualcuno, cioè assolutamente secondo protocolli e secondo i palinzesti che ci siamo fissati. Abbiamo per quest'anno scelto di recuperare due intitolazioni per le prove generali che erano due intitolazioni che provenivano dal 2020, cioè con l'annullamento delle giostre precedenti perché sono due nominativi Ricciarini e Edini che davvero se lo meritavano. Noi sfruttiamo tutti gli asset che abbiamo e, ripeto, la giostra è una di queste, non va snaturata, non va venduta, ma va promossa come strumento proprio per far conoscere la nostra città, così come facciamo con la fiera, ripeto, con tutte le nostre manifestazioni di punta che sono uno strumento di promozione della città enorme. E dopo domani 6 febbraio comincerà la grande festa con l'inizio della novella per la Madonna del conforto, festa di popolo che ogni anno porta migliaia e migliaia di fedeli in processione fino alla cattedrale per omaggiare la madre di Dio. L'attaccamento e la devozione alla Madonna del conforto del popolo retino comincia da lontano 1796 quando tutto il territorio retino fu funestato da continue scosse di terremoto, un'immaginetta di terracotta in vetriata raffigurante la senese Madonna di Provenzano, tutta nerita, collocata in un angolo di una cantina dopo le preghiere di alcuni fedeli si fece tutta splendente e le scosse terminarono. Nei giorni seguenti inoltre ci furono anche molte guarigioni riconducibili al prodigioso evento. Da allora migliaia di fedeli si rivolgono a lei per invocare protezione affidando le traversie del cuore e trovando appunto in lei conforto. Il Vescovo Andrea Migliavacca presiderà ogni giorno la messa delle ore 18, tutte le realtà religiose si richiaranno giorno dopo giorno in cattedrale, parrocchie, associazioni, movimenti e anche realtà della società civile da segnalare. Fra questi il prelegrinaggio dei giovani alle 21 di venerdì 10 di febbraio, la messa per la giornata del malato con la presenza anche degli ordini professionali sanitari, dei medici e degli infermieri, stiamo parlando dell'11 febbraio e il concerto del 21 del 13 febbraio a cura della cappella musicale della cattedrale ed il 15 febbraio, ovviamente festa della Madonna del Conforto, la santa messa pontificale alle 10.30 presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lo Iudice. Passiamo a tutt'altro argomento, molto più effimero ma molto sentito dalla popolazione e anche dai bambini. Al via domani in tutto l'artimo i corsi mascherati del Carnevale. Per Arezzo la sede del Carnevale dell'Orciolaia sarà il Parco Aldo Ducci a partire dalle ore 15. A Foiano i giganti di Cartapesta sono pronti a fare la prima uscita dai cantieri e iniziare la sfida. Al via anche il Carnevale dei Bambini di Rigutino e quello dei ragazzi di Subbiano, mentre a Castiglion Fibocchi, oltre alle bellissime maschere barocche di figli di Bocco in stile veneziano, ci sarà anche un concorso fotografico. Chiara Sadotti 200 maschere barocche nel borgo medievale Aretino di Castiglion Fibocchi. Torna così il Carnevale dei figli di Bocco che nel 2023 festeggia la sua 26esima edizione. Si parte sabato 4 febbraio con Aspettando i figli di Bocco. Si prosegue poi domenica 5 e sabato 11 con la chiusura prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale corteo che percorrerà le vie del centro storico. Quattro giornate di sfilate e divertimento per una festa dal sapore veneziano. Assolutamente sì, i castiglionesi sono pronti, gli ultimi ritocchi per dare inizio al gran Carnevale dei figli di Bocco. Domenica 5 e domenica 12 aspettiamo tutti i visitatori. Il Carnevale dei figli di Bocco è dedicato quest'anno a Pietro Vannucci, detto il perugino, a 500 anni dalla sua scomparsa. Ma non solo Carnevale, tanti gli eventi in calendario per queste quattro giornate di magia senza tempo per le strade di Castiglion-Fibocchi. Torna anche il concorso fotografico. Invito tutti gli appassionati di fotografia di venire al Carnevale dei figli di Bocco e di partecipare al concorso fotografico. Verrà svelato l'argomento e quindi di quest'anno e tutti possono veramente partecipare e tentare di vincere uno dei primi tre premi. Passiamo alla pagina della cultura con il teatro. Joelle Dix, l'attrice cortonese Valentina Cardinali sul palco del teatro Signorelli a Cortona in La Corsa dietro il vento di Dino Buzzati. Siamo andati a vedere. Grazie a tutti. Gioelle Dix, l'attrice cortonese Valentina Cardinali sul palco del Signorelli a Cortona in La Corsa dietro il vento di Dino Buzzati, scrittore bellunese. che Gioelle Dix ama fin dall'adolescenza e a cui l'attore milanese dedica questo spettacolo. Dino Buzzati è stato un grande scrittore che io ho amato fin da quando ero ragazzo. La letteratura a teatro di qualità è sorprendente perché unisce il suo potenziale immaginifico, profondo, spettacolare anche al linguaggio del teatro che a sua volta ha la capacità di far superare le barriere del tempo e dello spazio. E quindi direi che abbiamo costruito una miscela molto positiva ed è una sfida che direi abbiamo vinto perché il pubblico è molto felice di assistere a questo spettacolo, a volte addirittura sorpreso perché non tutti conoscono Buzzati come si dovrebbe perché è un grande scrittore italiano ma non è considerato ancora un classico. Quindi nel nostro piccolo facciamo questa opera di rivalutazione se possibile, anche se è chiaro, è già considerato un grande, però è ancora più grande di quanto non si pensi. Attingendo al ricchissimo forziere dei racconti, Joelle Dix compone un variegato mosaico di personaggi, vicende umane strabilianti. Scopodo. Ecco, ma abbiamo dei doveri. Le tradizioni. Le tradizioni. Il prestigio della casa. Oh, Tavio, che bravo, se non ci fossi tu. Ce ne sarebbe un'altra. Voi vi aspettate che io parli. Ma perché dovrei parlare? Io sono qui perché è il mio turno. Solo per questo. Io non ho nessuna intenzione di commuovervi. Io non sono innocente. Io non voglio rivedere la mia famiglia. Ma soprattutto io non voglio uscire di qui. Perché in questo penitenziario io vivo felice. Sì, felice. E rimaniamo in tema. La Fondazione Guido d'Arezza ha comunicato il rinvio del concerto del soprano Anna Netrebko, previsto per il 7 febbraio al Teatro Petrarca, a causa di una forte infiammazione del cavorale che ha colpito l'artista. L'evento sarà recuperato il prossimo 17 febbraio, sempre al Teatro Petrarca. Alle ore 20 e 30. I biglietti acquistati resteranno validi anche per la data del 17. Chi volesse invece richiedere il rimborso potrà farlo presso il proprio canale di vendita entro il 10 febbraio 2023. Chi ha acquistato invece il biglietto presso il teatro potrà recarsi per chiedere il rimborso presso la biglietteria dello stesso, sempre entro la stessa data. E parliamo di danza invece perché un galà della danza in scena al Teatro Petrarca coinvolge centinaia di allievi e allieve di 20 scuole da tutta Italia che si confronteranno domani ad Arezzo per la nona edizione del concorso internazionale Piero della Francesca a partire dalle ore 14 e 30. In questo caso si proporrà un intero pomeriggio scandito da un incalzante a alternarsi di balletti e coreografie tra classico, neoclassico, moderno e contemporaneo. L'appuntamento è promosso dall'Associazione Progetti per la Danza con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Guido d'Arezzo. Concorso internazionale Piero della Francesca, nona edizione. Si danza sulle punte e tutto questo domenica. Domenica finalmente si ritorna dopo un anno, si ritorna al Teatro Petrarca con la nona edizione del concorso internazionale Piero della Francesca con tante novità. Anche quest'anno abbiamo il teatro già praticamente pieno e l'affluenza delle scuole è stata importante e con loro ovviamente gli allievi che quest'anno tra l'altro abbiamo un forte aumento di giovani dai 18 anni in su nella categoria pre-professional. Quindi c'è anche un'attenzione particolare alla giuria che noi abbiamo selezionato. Sono tanti i ragazzi, sono tanti accompagnatori. Penso che sarà una bella giornata di intensa, però sarà veramente emozionante. Nella pagina sportiva non può mancare l'appuntamento con l'Arezzo Calcio perché domani alle 14.30 si scenderà in campo contrariamente come è stato annunciato da molti social, molti siti e altre testate 14.30 e non alle 15. Calcio d'inizio di Arezzo Flaminia. Quindi per quello che riguarda i giocatori Gardini ha recuperato e sarà a disposizione di Mister Indiani. Cantisani invece classe 2004 che è il nuovo arrivato invece andrà in panchino. C'è un ritorno speciale da segnalare ad Arezzo quello di Federico Nofri, oggi 53enne, allenatore del Flaminia. Domani torna da doppio ex, oltre ad averci giocato sotto la guida di Cersei Cosmi ci si è pure seduto in panchina dieci anni fa. Ma l'impresa resta la vittoria che ha ottenuto Nofri nella serie Divi data appunto dal sempre amato tecnico Cosmi da capitano e con la maglia numero 8 sulla schiena. Ma andiamo a sentire invece a proposito della partita di domani il tecnico Amaranto dopo la conferenza stampa di stamattina. Alibi non l'abbiamo mai cercato né concludi, niente Alibi. L'incontro va sempre bene, c'è la priorità che dalle sue direttive è giusto che sia, la priorità è il suo dovere e il diritto a farlo. Ma direi è andato bene, è stato un buon incontro sicuramente. Evidentemente la risposta dovrebbe essere non siamo forti come qualcuno crede. Io all'inizio dell'anno mi ricordo quando le vincevamo tutte dicevo state buoni, calma, dobbiamo migliorare. Evidentemente non siamo migliorati abbastanza però faccio notare che ci sono anche gli avversari sempre e comunque. In questo campionato faccio ancora notare che tantissime volte le squadre nel nostro girone ultimamente sempre le squadre sono partite a favore dei pronosti e non hanno mai vinto. Speriamo adesso noi a sfatare questa cosa. Non credo io, la cosa che sicuramente sono pronto a mettere la mano sul fuoco come si dice è dell'abnegazione dei ragazzi dell'impegno, della volontà di mettere tutto quello e ce l'hanno per vincere. La risposta forse è l'altra che ho detto che ci sono anche gli avversari e è una squadra che se la mette sul piano del gioco su un terreno adatto non è se un da nessuno questo campionato e lo abbiamo dimostrato anche a Stagnaio e a Corrano mentre se la partita va su altre cose tipo lotta, guerra, guarda alta Arias e Samburello è molto 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 meno brava. Questo è un campionato difficile anche per questo motivo primo perché ne vince una sola e quando ne vince una sola non c'è difficile, difficile, difficile secondo perché le condizioni per giocare in calcio sono più le volte che non ci sono e quelle che ci sono e comunque noi siamo sempre lì siamo sempre lì facevo notare al Presidente l'anno scorso in questi tempi potevano andare via tutti e noi siamo sempre lì e con 13 giornate a giocare e a lunga ancora ancora non hanno vinto Pianese e Poggio Bonzi ancora non hanno vinto tra l'altro direi anche sono l'unica e tre che lo possano vincere a questo punto penso più o meno però sia Pianese e Cavorano e Poggio Bonzi ancora non hanno vinto noi siamo sempre lì con tutti i nostri difetti non possiamo andare in difficoltà con le pallonate e le squadre avversarie di laggiù dai portieri loro ecco abbiamo cercato un settimana di migliorare questa cosa vediamo domani se si verifica questa cosa di migliorare capito? perché Dio che questo è un campionato totalmente di sopra a loro gli portavo proprio questo esempio vedevo Inter-Atalanta l'Atalanta non riusciva a uscire non ci fanno nemmeno una volta e tirano una pallonata a casa là davanti di calcio vero qui il calcio vero purtroppo vedi molte volte il tamburello come domenica scorsa e se è il tamburello non siamo bravi questo è appurato vediamo però il tamburello vediamo di essere bravi a non prendere go ecco sul tamburello non sarebbe di già poco trovavamo sì anche all'andata ma non mi ricordo due passaggi di fila nel centro di campo anche all'andata capito? ecco perché bisogna migliorare su queste pallonate su questi lanci sulla nostra ultima linea così vai mando la parla là che se lo facciamo noi vero? si da sempre a parla agli altri noi non lo vogliamo fare né siamo bravi a farlo concludiamo la pagina sportiva con la SBA con la scuola basket Arezzo calendario ricco di impegni si comincia dalla prima squadra domani domenica alle ore 18 alla Pala Orlandi di Moriterigioni l'AMEN scuola basket Arezzo affronterà la seconda trasferta senese della stagione contro la Vismederi Costone Siena nella gara da noi giocò un brutto scherzo di Amaranto riuscendo ad aggiudicarsi l'incontro dopo due tempi supplementari da quella data sono cambiate molte cose in casa senese in primis l'avvicendamento in panchina poi l'innesto di Maximovic e infine rientro in squadra di alcuni infortunati come per esempio quello di Terrosi quattro giocatori giallo-verdi pericolosi che viaggiano sopra la doppia cifra di realizzazione media in questo campionato si tratta di Bruttini Banchi Maximovic e Don Domingue per l'AMEN riuscire a limitare la pericolosità di questi giocatori sarà fondamentale per cercare di portare a casa l'intera posta in palio arbitri dell'incontro saranno i signori Biancalana di San Giuliano Terme e Parigi di Firenze che alzeranno la palla a due alle ore 18 per il settore giovanile la SBA invece ha tanti impegni a partire da sabato quando alle ore 16 tornano in campo i ragazzi CSID coach Maccanti contro progetto Palacanestro Prato a seguire alle 18.30 Rosini impianti Under 15 Silver di coach Vezzosi ospiteranno sempre al Palasport Estra il Terra Nuova domenica mattina alle ore 11 tre formazioni in campo al Palasport Estra la Kimet Under 17 Silver B contro il Val di Sieve poi la Technoil Under 17 Silver che se la vedrà contro il Figline il Don Bosco a Figline contro il Don Bosco e trasferta a Firenze per l'Under 15 femminile sul campo della Florence domenica alle ore 15.30 l'Under 13 Portland Trail il Blazer giocherà sul parquet di Terra Nuova ad Arezzo alle 16 in campo Galv Arr Under 14 Silver di coach Pasquinuzzi sempre contro i Biancorossi di Terra Nuova martedì alle 21 a Lucca chiuderà gli impegni delle giovanili l'Under 19 Gold sul campo della Top Speed per il Minibasket oltre ai partiti che si sono giocate in queste ore gara interna domani per gli Aquilotti 2013 contro la Synergy Valdano mentre alle 11 trasferta al Reggello per gli Aquilotti 2012 turno 1 e dopo questa lunga carrellata di appuntamenti e vi ringrazio per la cortese attenzione a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV Grazie a tutti